Quando finì il mio dottorato mi venne proposta una posizione in un bel centro europeo internazionale con una buona visibilità internazionale ma decisi di rimanere perché il professore ordinario del gruppo aveva incontrato lungo il suo percorso questo materiale innovativo. A questi albori si trattava solo di scienza dei materiali ma con grande tenacia e anche quando nessuno credeva in questo materiale siamo riusciti in realtà a portarlo a un livello tecnologico abbastanza elevato da poter pensare di renderlo un'idea imprenditoriale. Quindi questo ha caratterizzato di fatto il mio percorso professionale come docente del Politecnico. Stupid ti permette di fare i primi passi all'interno di un mondo in cui il focus è il market e la protezione delle idee cosa che difficilmente troviamo in ambito accademico.